Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come disattivare completamente ma disattivare per sempre Windows Defender ovviamente rifaccio sempre una guida simile però con nuovi metodi e ovviamente come disabilitare per sempre Windows Defender su Windows 10 o Windows 11 ovviamente per cominciare andiamo un attimo sullo scudo di Windows, quello qua sotto, ci clicchi sopra vai direttamente su gestisci impostazioni, scendi fino a giù fino a trovare esclusioni, aggiungi o rimuovi così esclusioni su Windows Defender aggiungi un'esclusione, vai su file, vai su questo pc, vai nel tuo disco locale C, scendi fino a giù fino a trovare programmi scendi fino a giù fino a trovare Windows Defender, scendi fino a giù fino a trovare il file che si chiama, l'applicazione che si chiama msmpng ovviamente io non lo disattivo perché a me Windows Defender mi serve, una volta selezionato questo vai apri e lo metterà su esclusioni quel file in questo caso se non dovesse bastare, chiudiamo un attimo qua andiamo direttamente su criteri, criteri di sicurezza locali cartella Windows Defender, Windows Defender Firewall, tasto destro sopra, proprietà ed eccoli qua qui puoi configurare così la tua proprietà di Windows Defender tipo profilo di dominio, stato firewall, non configurata, metti disattivato connessione entrata, metti blocca, profilo privato, metti disattivato, profilo pubblico disattivato eccetera eccetera una volta fatto se non dovesse bastare andiamo direttamente su Windows Defender Firewall attiva e disattiva Windows Defender Firewall, disattiva Windows Defender Firewall scelta non consigliata perché Windows Defender serve al sistema si attiva Windows Defender Firewall oppure consenti app o funzionalità modifiche impostazioni avanzate ed eccolo qua, azione proprietà ed eccolo qua azione entrata, profilo attivato, profilo pubblico, stato firewall, qua metti disattivato e fai applica e chiudi tutto se non dovesse bastare, chiudiamo un attimo qua e andiamo direttamente su registro editor del registro di sistema quindi vai su hkeylocalmachine, vai su software, scendi fino a giù fino a trovare polisis, questo qua polis scendi fino a giù fino a trovare Microsoft, apri la cartella di Microsoft e dentro troverai Windows Defender e all'interno troverai polis manager real time protection se non trovi questa cartella devi cliccare su Windows Defender e fai nuovo clicca su chiave e crea la cartella che si chiama real-time protection e dentro questa cartella devi creare il file reg che si chiama disable real-time monitoring questo qua ovviamente tu ci clicchi sopra, tasto destro qua sopra, nuovo valore di word 32 bit e lo chiami, così lo chiami e lo salvi una volta fatto ci clicchi sopra, dati valore, metti 1 e fai ok e chiudi qua se non dovesse bastare scrivi così sotto al video per altri problemi e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao